Il presidente del Consiglio regionale di Basilicata, Vincenzo Folino, è stato ricevuto ieri dal sindaco di Assunzion, Arnaldo Samaniego González. Folino, nella capitale del Paraguay, per il secondo forum mondiale delle donne lucane, ha ribadito il suo forte apprezzamento per la comunità dei lucani, presente in Paraguay da oltre un secolo, che sono arrivati ad occupare ruoli molto importanti nel mondo dell'industria, del commercio e delle professioni. Il presidente del Consiglio regionale ha ringraziato il sindaco per la calorosa accoglienza riservata alla delegazione, con lui la presidente della commissione pari opportunità, Botta, il presidente della commissione regionale dei lucani all'estero, Di Sansa, la presidente della federazione dei lucani del Paraguay, Materi, e quella del circolo lucano di Assunzion, Giosa, sottolineando le molte affinità fra il Paraguay, un piccolo stato che cerca di farsi largo fra i giganti dell'America Latina, e la Basilicata, una piccola regione del Sud Italia che ha la sua forza nella coesione sociale e nelle risorse naturali del territorio.